Roma, 23 febbraio 2018. Con un anticipo ampiamente giustificato rispetto ai tempi normalmente previsti, si è riunito l'82esimo Comitato Centrale di SNA. A presidere l'Assemblea è stato eletto il Presidente della Provinciale di Roma, Sergio Starbini, coadiuvato dal Vice Presidente del Comitato Regionale del Lazio, Giuseppe Di Mauro. Il Comitato Centrale è tornato a Roma dopo tanti anni, paradossalmente ancora una volta per approvare un nuovo CCNL per i dipendenti, questa volta le cose sono andate molto bene, del resto il contratto ha dimostrato in questi anni di avere una valenza importante per le agenzie e anche per i dipendenti che sono finalmente da un contratto che è sicuramente più moderno e più efficace per quelle che sono le attività dell'Agenzia. Il Comitato in quel senso è andato molto bene, abbiamo avuto l'approvazione all'unanimità. Non pensavamo di dover affrontare anche un problema importante, il nuovo bozza di decreto legislativo che in questi giorni ha fatto tanto parlare, la categoria, quindi abbiamo affrontato anche questo problema. Anche lì il Comitato Centrale si è dimostrato molto pronto e molto attento a quelli che possono essere i problemi gravissimi che questo decreto legislativo potrebbe portare non solo alla categoria ma all'interminazione assicurativa in generale e quindi è stata approvata una mozione importante che siamo convinti possa dare dei frutti importanti per il ritiro o perlomeno per la modifica di questo decreto. Grande partecipazione ed alta qualità degli interventi, questi gli ingredienti di un Comitato Centrale che ha visto l'approvazione all'unanimità del rinnovo del CCNL dei dipendenti di agenzia con una significativa novità dell'inserimento nell'impianto contrattuale dell'iscrizione dei lavoratori dipendenti ad Assicurmed, un fondo di assistenza sanitaria integrativa. Il vero elemento di novità è che parte della ritribuzione economica che è stata erogata in aumento sulle tabelle retributive verrà rilasciata sotto forma di welfare, infatti l'aumento economico andrà ad alimentare un fondo sanitario integrativo specializzato in odontoiatria che darà la possibilità non solo ai nostri dipendenti delle agenzie di assicurazioni ma siamo riusciti ad ottenere dopo una estenuante trattativa anche con il fondo sanitario e l'estensione a tutti i familiari dei nostri dipendenti d'agenzia che vedrà erogate delle prestazioni totalmente gratuite a favore dei dipendenti. Sono anche soddisfatto del fatto che è stato capito, compreso, apprezzato e che all'unanimità il Comitato Centrale ha votato questo rinnovo. Quindi dal punto di vista politico sindacale per noi è anche l'affermazione definitiva della nostra piena libertà e autonomia negoziale. Ampio spazio di dibattito e preoccupazione ha riservato il tema della modifica dell'articolo 117 del Codice delle Assicurazioni, deciso dal governo tramite il decreto legislativo di recepimento della IDD, la direttiva europea sulla distribuzione assicurativa. Io voglio recuperare tramite il sindacato la mia dignità professionale. Questo è il concetto sindacale, la dignità. Io voglio essere rispettato perché ho fatto per le compagnie tanto quanto loro non hanno fatto mai per gli agenti. Chiarezza da questo punto di vista è stata fatta dall'avvocato malandrino, consulente di SNAH sulla normativa che presenta chiari profili di anticostituzionalità. Una disposizione del decreto legislativo che dovesse diversamente regolare il conto separato rispetto a come è regolato attualmente in base alle direttive comunitarie e alle leggi interne vigenti sarebbe chiaramente un provvedimento viziato da eccesso di delega. Ecco, questo è il profilo fondamentale. L'eccesso di delega è un vizio costituzionale della norma di legge, nel senso che la Costituzione indica questo tracciato. Il Parlamento, che è l'organo primario a livello legislativo, deve dare al Governo le regole di attuazione. Il Governo deve rimanere all'interno delle regole che il Parlamento gli dà. Non può aggiungere, modificare in maniera diversa da quelle che sono state le deleghe che il Parlamento gli ha dato. In questo caso, lo ripeto, saremo in presenza invece di un intervento del decreto legislativo al di fuori completamente della delega che il Parlamento gli ha dato e quindi sotto questo profilo sarebbe incostituzionale. La conclusione dei lavori ha portato alla redazione di una mozione che sottolinea il carattere ostile, persecutorio e discriminante nei confronti degli agenti di assicurazione italiani delle nuove norme contenute nell'emanato decreto legislativo. e riesce a far percepire anche all'esterno questa mozione scritta, per quanto ho potuto vedere benissimo dalla commissione che abbiamo incaricato, rende giustizia senz'altro sull'unità di intenti che è emersa in questo comitato centrale e sulla unanime condanna a questa disposizione normativa. Dunque, il sindacato nazionale agenti ha concluso, con l'unità e la compattezza del suo nucleo dirigenziale, l'82esimo comitato centrale, dichiarando lo stato di agitazione della categoria e dando mandato al suo presidente e al suo esecutivo di porre in essere tutte le iniziative possibili per la salvaguardia e la tutela della centralità e della dignità dell'intermediario d'assicurazione.